buongiorno eccomi tornata in un nuovo video oggi vi starete chiedendo perché stai parlando sotto voce sicuramente nel titolo già avrete capito cosa voglio andare a fare oggi ovvero oggi voglio registrare un vlog un semplicissimo vlog ma con la difficoltà diciamo così di parlare sempre sotto voce sussurrando un po in stile asmr quindi speriamo tanto di farcela anche perché sto facendo molta 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 fatica a parlare così non sono abituata quindi speriamo di resistere per tutta la giornata spero anche che l'audio si senta bene perché ho collegato il microfono che di solito quando registro i vlog non utilizzo mai quindi speriamo che l'audio sia decente ed eccolo qui questo è il microfono che mi farà compagnia oggi durante tutta la giornata mi sono svegliata non tanto tempo fa come si può notare dalla mia faccia e adesso vado a lavarmi il viso poi mi metto la crema idratante e poi mi trucco così poi possiamo andare già posso andare in cucina per fare colazione mamma mia che fatica che sto facendo ho rimesso giù il microfono e iniziamo il primo step ovviamente è lavare il viso e vado ad utilizzare questo detergente forse era meglio legarmi i capelli prima chissà cosa uscirà sono davvero molto molto curiosa adesso passo al tonico che è praticamente finito c'è giusto l'ultima cuccia che utilizzerò stamattina adesso voi non vedete perché il microfono ce l'ho qui sotto lì e non si vede nella ripresa però fa niente vado a tamponare il dischetto sul viso comunque se non si fosse capito questo tonico è il mio preferito in assoluto provo a tenere il microfono in mano magari si sente un attimo meglio adesso passo alla crema idratante a vaso di latte sempre di pixie comunque ho dovuto formattare la memory card quindi sono andata a vedere e a sentire più che altro l'audio di questo video e forse io preferisco il microfono tenuto un pochettino più distante dal mio viso perché l'audio altrimenti è davvero molto 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 alto e poi un'altra cosa che ho notato forse forse devo parlare un pochettino più lentamente e anche muovermi più lentamente però non sono abituata a mettermi ad esempio la crema così con questa calma impressionante quindi chissà alla fine cosa ne uscirà prima di truccarmi vado a lavare i denti adesso passo al make up ma credo di dover andare un pochettino più veloce perché altrimenti questo video uscirà lunghissimo infatti stavo anche pensando di non fare un vero e proprio vlog ma di registrare ogni tanto delle clip durante la giornata perché altrimenti viene davvero troppo troppo lungo comunque vi faccio vedere velocemente i prodotti che utilizzo per realizzare la base prima di mettere il fondotinta a volte uso anche una base, un primer e illuminante oggi andrò a mettere questo in realtà quando metto una base prima del fondotinta utilizzo in questi ultimi mesi sempre questo prodotto di L'Oreal che regala, cioè che dona anche 24 ore di idratazione cioè comunque è una base leggera che non secca la pelle, non la pesantisce e quindi mi piace proprio per questo e poi ha un profumo buonissimo la stendo con le mani come se fosse a tutti gli effetti una crema idratante stavo guardando la durata del video e ho visto che ho già registrato per 7 minuti adesso più la clip che ho fatto prima quindi acceleriamo vado a mettere il correttore e il fondotinta entrambi di L'Oreal la Corte Parfait e il mio amatissimo instant anti-age sulla zona del contorno occhi per coprire le occhiaie alla fine alla fine mi sono truccata come vedete senza filmare perché altrimenti il video veniva davvero lunghissimo comunque vi faccio vedere i prodotti che utilizzo quotidianamente per realizzare questo trucco allora vado a fissare la base con questa cipria in polvere libera di Burubio poi come bronzer vado ad utilizzare questo sempre di Burubio tra l'altro anche lui è quasi finito invece per quanto riguarda il blush sto utilizzando questo a forma di cuore di Too Faced e questo è praticamente come vedete quasi quasi finito cioè per quanto riguarda gli occhi ultimamente sto utilizzando una classica matita marrone per fare l'eyeliner molto più naturale e come mascara utilizzo questa combo prima metto questo di Smashbox che mi serve per pettinare per bene le ciglia e poi passo a questo l'I love extreme di Essence che invece dà più volume alle ciglia e invece per le sopracciglia vado a ritoccarle con questa matita di Benefit che mi piace davvero tanto anche perché da questo lato c'è il pettinino per andare a pettinarle ok adesso sono pronta per fare finalmente vi dico finalmente colazione quindi ci spostiamo in cucina ma nel frattempo mi vado anche a cambiare perché sono ancora in pigiama eccomi finalmente qui in cucina pronta per fare colazione come vedete e come magari si sentirà anche c'è la stufa accesa anzi in realtà non si vede che è accesa ma è accesa fuori c'è una bella giornata però è fresca è una giornata molto molto fredda quindi in questi giorni stiamo ancora accendendo la stufa e spero che il rumore della stufa non sia fastidioso per voi comunque mi sono preparata la colazione e ho fatto il nocciolino o la nocciolata è praticamente una bevanda calda al gusto di nocciola è buonissimo e fa anche tanta tanta schiuma come vedete mamma mia questo è proprio buonissimo è sicuramente non dico pieno di zuccheri però ci saranno cioè ci sarà un po' di zucchero all'interno infatti non è necessario zuccherarlo in quanto è già molto molto dolce mentre ho deciso di mangiare un muffin al caramello e cioccolato è buonissimo questo è un muffin un pochettino più leggero quindi oggi me lo concedo non so come facciano gli ASMR artist a fare video così ogni volta perché per fare colazione ci sto mettendo un'eternità non so ma vabbè eccolo qua è un po' sciolto comunque se mangio questo a pranzo devo mangiare qualcosa di più leggero quindi magari mi farò dei borghiere di zucchine che tra l'altro ho visto che mi sono piaciuti tantissimo anche a voi questo muffin è davvero super questo muffin è davvero super comunque comunque stavo pensando anche di chiudere questo video nel primo pomeriggio perché sto registrando già troppo e non voglio stufarvi quindi mi sa che non sarà un vero e proprio vlog ma una challenge un esperimento chissà chissà cosa esce stai 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 vieni no devi parlare passo vieni di una parola di una parola di una parola passavoce ciao 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 ok la colazione l'ho fatta questo lo possiamo richiudere e mettere in dispensa e mettere in dispensa l'altro cupcake l'altro muffin lo mangeremo magari questo weekend adesso spengo tutto e sistemo un po' di cose qui in casa e ci vediamo più tardi ciao eccomi tornata era da un po' che non parlavo a bassa voce infatti ho dovuto fare un taglio perché ho parlato normalmente e non mi stavo più ricordando comunque come vedete non è un vlog dove vi porto in giro per casa perché ho paura che altrimenti l'audio non si senta benissimo in quanto devo continuare a muovermi e poi sto registrando con la macchina fotografica nuova che avevo preso per fare il vlog ma non avendo lo stabilizzatore e c'è molto 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 mossa se non si tiene la macchina fotografica sul cavalletto quindi per non farvi venire mal di testa vi ho posizionato sul cavalletto e continuo a cambiare postazione adesso sono in sala da pranzo comunque è sceso anche il sole non so se si sia visto e comunque sono quasi le 3 del pomeriggio io credo fra poco di chiudere il video perché penso sia venuto davvero super 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 lungo spero tanto che il video vi sia piaciuto speriamo insomma perché è la mia prima volta quindi chi lo sa comunque domani penso di registrare il video dove faccio una torta insieme a voi ma non sarà la classica torta light che abbiamo provato a fare io e ste qualche settimana fa se non avete visto il video e volete farvi due risate ve lo lascio qui nelle schede sarà una torta quella di domani molto molto calorica e speriamo esca bene non vedo l'ora di farla sono andata a recuperare moca ve la faccio vedere visto che ho un po' di tempo che non è ve la mostro più da vicino è cresciuta adesso pesa 1,8 kg ed è davvero dolcissima vero che sei dolcissima penso che sia anche un pochettino stanca è piccola comunque direi di chiudere qui il video perché non voglio come dicevo come detto prima già tante volte non voglio annoiarvi spero di avervi tenuto compagnia o di avervi in qualche modo fatto rilassare è la prima volta quindi perdonatemi se magari l'audio o i miei movimenti sono stati un po' troppo veloci comunque se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere mettendo un pollicino in su ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video sicuramente gli altri video saranno classici non in ASMR però avevo voglia di provare qualcosa di diverso vi mando un grandissimo bacione e a presto ciao